Bentornati a tutti in questo nuovo video, in questo video andiamo a completare il multiplone installando i tre sedili posteriori così da ripristinare tutti e sei i sedili del multiplone è una cosa che dovevo fare già da tempo e devo ringraziare appunto Andrea Azzolini che è andato a Rimini a prenderli, li ha custoditi a casa prima che poi li portasse da Riccardo poi passasse a prenderli e tutto, quindi lo ringrazio veramente e magari molti di voi non sanno chi è è quel ragazzo che commenta sempre qua sotto ed è sempre il primo che commenta e fa anche tanti commenti andiamo a installare i sedili del multiplone, dovrebbe essere abbastanza semplice qui abbiamo il nostro bel multiplone che è ancora pieno di scatole e di tutte le robe da sistemare quindi diamogli una sistemata, ora che è bello vuoto possiamo andare a installare i nuovi sedili non so bene come si montino ma penso vengano utilizzate queste guide, queste slitte ci sono tutti qua dei gancini, dei perni e andrebbero uno, due e tre e qua dobbiamo distinguerli i due laterali da quello centrale, allora in base alle cinture magari questo ne ha due questo ne ha due, questo ne ha due, che cazzo come si fa a distinguere? questo dovrebbe avere i portabicchieri, difatti qua c'è il portabicchieri, presumo che quello che porta bicchieri sia il centrale, andiamo un attimino a vedere e cerchiamo di capire come vanno inseriti, ho installato già il primo sedile e per capire che questo è quello sinistro ho guardato questa leva che è quella posta sul lato sinistro esattamente come questo anteriore, anche qua quello di sinistra ha la leva qua a sinistra, quello ce l'ha a sinistra e l'altro ce l'ha a destra, per poterlo installare è più comodo chiuderlo, tirare dentro tutto il posatesta, agganciarlo prima qua che può essere regolato in due posizioni o qui o anche più avanzato per avere più vanno di carico, lo incastri prima in questa posizione che è tipo inclinato e poi lo fai scendere e qua dietro si aggancia da solo, per poterlo sganciare poi lì dietro, qua c'è questa leva, si tira la leva, tirando la leva si sgancia, poi bisogna farlo salire nuovamente per poi sfilarlo davanti, andiamo ad installare adesso anche quello centrale che dovrebbe essere questo, sì, con i poggio bicchieri, e poi andiamo ad installare anche quello di destra, una volta installati tutti poi il multiplone sarà completo in tutta la sua forma, anche se sarà un po' più pesante, però vabbè, quello poco ci interessa, andiamo ad installare i sedili e vediamo un attimino come sta. E dopo almeno mezz'oretta di incastra, tac e tutto, perché questa roba non è per niente facile, sono riuscito a montare i sedili del multiplone e adesso è diventato nuovamente sei posti come esce dalla casa, guardali che belli tutti i sediloni, sono un po' una rogne riuscire ad agganciarli, quindi prendetevi il vostro tempo. Ora abbiamo installato tutti i bei sediloni, guarda qua, stanno dentro, direi molto molto comode, anche le tre persone dietro, qua davanti ha un sacco di spazio e quello davanti ha comunque anche lui un sacco di spazio, è veramente capiente e spazioso, andiamo poi a sistemarli un po', a regolarli giusti, e anche per questo adesso siamo a posto. E ora che il multiplone è pronto, possiamo andare avanti con la serie e noi ci vediamo tra poco. Anche questo è finito, andiamo a mettere qua. Ok. No, 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 no. Oh, mio! Oh, mio! No, no, no. Ma non può essere pieno da tutte le parti. La marcia! Ah, no, 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 no. Eh, no, 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 no. non è una grotta scalata cazzo la lunga no ma devi tenerlo su non frenare non frenare no no leva no montagna diretto si è alzata dietro mi sono occupato vai dove sta mi sono fatto vedere mi sono fatto un piazza cazzo la mano ma che facciamo? posso chiedere un desiderio e non chiedo altro oggi puoi non guidare più Pietro? no Roberto non voglio morire non voglio morire io sono pronto a dare una bella testata a questo sono i power rangers la prima è in alto a sinistra quella è la quinta la terza la quarta retro siamo alla guardia forestale la prima è in alto a sinistra 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 siamo già fermi no Bob ho sentito quella cosa sotto i piedi è la bombola del metano ma è vero no cazzo non abbiamo messo le cinture no eh power ranger possum Mettiamo in chiesa Su questa Forza Forza We are gonna die L'unica strada che non c'era è prima Cosa qualcosa Andiamolo Buona E se lo scendi con quella Buona Non tanto Buona Ecco qua Siamo tornati Vai mettere il relesso Vai Scutami Vai 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 Eccoci tornati Qua multiplona E andiamo a vedere Anche se mi sembra che era parcheggiato un po' diverso Andiamo a vedere qua il bolide Tutto completo dei suoi sedili Allora qua Tec E' una cosa molto strana Perché l'avevo lasciato giù che funzionava Mi sa che qualcuno mi ha rotto il multiplona E dopo alcuni giorni spesi nel cercare di riparare il multiplona Raga Mi sa che questa è la fine di questo motore O forse no Non lo so Ci sono alcuni problemini E ve ne faccio vedere alcuni Allora Sono riuscito a far partire il motore Qua giriamo Il motore parte Qua abbiamo pochissimo metano Solo un pallino E di benzina ce n'è poca Compare questa spia Che vuol dire Che il sistema di alimentazione Non funziona bene Ovvero Che c'è un problema nel sistema di alimentazione a benzina Anzi Riusciamo a far smettere Ok Questo squittio è proprio devastante Allora L'auto gira male È tutto E c'è un altro problema C'è una perdita di acqua Abbastanza importante Dalla pompa dell'acqua E Ovviamente non voglio andare a comprare La pompa dell'acqua nuova Però continuiamo a mettergli un po' di acqua Affinché riesca a sopravvivere Gira abbastanza male Non so se dal video si capisce Però Trema tutto Borbotta E possiamo fare un test veloce Ovvero Possiamo andare a vedere Questo è il rail Della benzina Ovvero dove passa il carburante Benzina E se noi andiamo qua davanti Che c'è la valvola Così sto premendo la valvola E Non esce benzina In realtà dovrebbe uscire il carburante Anche se stiamo andando a metano Questo vuol dire Che c'è un problema Nell'impianto di alimentazione A benzina Allora Devo iniziare a smontare tutto Pompa della benzina Relè Benzina Fusibili Dai Vediamo di cercare di ripararla Per farla tornare a benzina E anche se Mangio un sacco di acqua Continueremo ad aggiungerla Però Voglio farla funzionare Così da poter installare Il kit di protossido d'azoto Sulla multipla Almeno poi Possiamo fare Dei test Su questo motore Dei test sul protossido d'azoto E capire un pochettino Come funziona Andremo a fargli una mappa Dedicata per il protossido Ovviamente Però Finché Borbot non gira il regolare Pensate che non ce la faremo Dai Speriamo che i Power Ranger Non mi abbiano davvero distrutto il motore Se vi è piaciuto questo video Lasciate un like qua sotto Commentate cosa ne pensate Di tutta l'esperienza E di questo Polite di motore Iscrivetevi al canale Per continuare a seguire Vicenda Multiplone E tutte le altre E ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti ragazzi E' candele per me Ciao a tutti